Salve a tutti ladruncoli! E' il vostro Lupin che vi parla per darvi una grande notizia, ovvero che domenica 8 aprile sarò al Romics 2018. Principalmente sarò presente nella zona specchi a fare un po' di fotuzze e un po' di set qui e là. Vi aspetto, accorrete in molti! Bye bye! Bye bye! I episodi della quinta serie, ovvero la opening, ovvero sarebbero le sigle di apertura e di chiusura degli episodi. Vediamo, 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 perché sono molto curioso. Allora, allora, allora mettiamoci la nostra bella cuffiettaina. Cuffiettaina. Bene, io direi che siamo pronti, quindi 3, 2, 1, via! Mamma mia che... Che bello! Che disegno c'ha? Lupin the Turd. Eh, ci mandi i bacini, Fujiko. Ah, mi emoziono! Oh mio Dio col fucilozzo, Gimo! Ma guarda che disegno! Che disegno, che già abbiamo visto! Infatti poi ne riparleremo. Gaemon, ovviamente. Gaemon Ishikawa. Zazzà! Spettore Zenigata. Fa impaurire anche i gatti, mi scusi. Oh, che bello! No, aspetta! Ok, dopo vi dico. La 500 propulsione! What? Ehi, la 500 nello spazio! Ok, metto una telecamera. Ho gli stessi occhiali, perfetto. Cosa vedono? No, non mi dire. Per vedere Fujiko! E' un po' precipitano, ovviamente. Bellissimo! Bellissimo! E' fantastico! Allora, la opening è fighissima. Il disegno. Il disegno. Unica cosa che devo dire. Il disegno è molto simile alla grafica degli ultimi cartoni, diciamo giapponesi e non. Diciamo che è un nuovo tratto di disegno su tavola, sulla tavoletta grafica. Nuova. Che è simile, anzi quasi uguale, direi, alla grafica dei... del reboot di DuckTales, della Disney. Infatti, in un frangente, nel mentre che la 500 viene inseguita da Zinigata, con tutte le macchine della polizia francese, è uguale, adesso ve lo metterò comunque nella schermata, al punto della citazione su DuckTales di Lupin. Non lo so, cercherò l'immagine e ve la metterò per farvi vedere, ma mi è sembrato molto, molto simile la prospettiva dall'alto, a quel punto lì, preciso, in un episodio di DuckTales, dove c'è appunto questa citazione a Lupin, dove c'è una 500 in mezzo a tante macchine, con un papero vestito da Jigen, diciamo, sul tettuccio della 500 gialla. A me sembrano uguali, poi non lo so. Bene, visto questo, l'opening, vediamo la sigla di chiusura, la ending. Vediamo, vediamo, già vedo Fujiko in copertina. Ah, questo è ok, questo è il taglio. Allora, calmini, eh, allora, non facciamo questi scherzi, eh. Calmini. Eh, la spallina. Ok, carina, molto... Sembra. Ok, una silhouette si è vista, probabilmente Lupin. Inimpermeabile. Carino, a classe, carino. Un anello. Eh, Fujiko sposa. Magari è lei che immagini... Oh, che bella immagine. Addirittura Gaemon che fuma, ma guarda. Eh, Fujiko, eh, Fujiko. È ora. Ora, dopo vi dico. Ah, ma allora è accaduto qualcosa. Era ora, puretto, pure Lupin. Sempre in bianco, no. Sempre due di picche, no. Potrebbe anche essere qualcun altro. Addie. Bello col... Bellissimo. È finito. È fantastico. Bello. Bello, bello, bello. All'inizio è molto... Emozionante. Per cose che già sappiamo, senza che le dico a fare, insomma. E questa è ending. Interessante. Interessante anche questa, incentrata su Fujiko. Fujiko che ha la grafica e la maggior parte degli outfit, soprattutto, diciamo, l'outfit estetico o fisico dell'avventura italiana, con questo taglio più lungo. Perché, appunto, nella quinta abbiamo visto che ha il taglio molto più corto, tipo gli tocca qui alle spalle. Interessante, molto intrigante, con questa musichetta parigiuna, con questa fisarmonichetta che ridà molto alle musiche, adesso che mi è rivenuto in mente, del film Un Diamante per Sempre, con questa musichetta, no. Bella, 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 bella. Chi sarà? Io spero sia Lupin, il signore, diciamo, a chi apparteneva con la mano nel letto di Fujiko. Chi lo sa? Chi lo sa? Io spero sia Lupin, perché penso che sia ora che Fujiko, insomma, una botticina gliela dia. Un po', troppe due di picche, basta, povero Lupin, Fujiko, please. Bello. Mi piacciono tutte e due. Vediamo, vediamo come sarà questa quinta serie da oggi, 3 aprile, 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 eh, l'accento in Giappone, aprile, mondo ginese. E basta. Ricomincio il discorso che è meglio. Vediamo come sarà questa quinta serie che partirà da oggi, 3 aprile, da oggi in Giappone. Se riesco vi metterò in descrizione il link dove si può, appunto, dove si possono vedere, dove verranno trasmesse le puntate di Lupin in streaming. Datemi un vostro parere su questa quinta serie, vediamo cosa vi ha fatto accendere dentro queste due sigle, sia opening che ending, di questa nuova serie dell'anime di Lupin III. Fatemi sapere qui sotto, con un commentino, cosa ne pensate. Vi invito ad iscrivervi perché, appena possibile, da quello che so, ancora non si sa nulla se qualcuno tradurrà le puntate, almeno con i sottotitoli in inglese, perché almeno così potrò capire qualcosa della trama. Lo vedrò in giapponese, non ci capirò nulla, però voglio vedere almeno la prima puntata anche solo in giapponese. Vediamo se riesco a capire qualcosetta. Semmai, mi sa che tocca un po' attendere per, appunto, fare le mie recensioni a riguardo. Vi invito a mettere un bel mi piace se vi è piaciuta questa reaction. Vi invito a seguirmi su Instagram, soprattutto su Instagram, oltre che su Facebook, sulla mia pagina Facebook. Noi ci vediamo a un prossimo video molto presto e alla prossima! Bye bye!